La Luco alla cancio, palla che rimane ancora lì, Mischia arriva, la Luco! Traversone in mezzo, attenzione, va bene il tagliore alla cancio, Yonah! Il raddoppio della Juventus Women! Cernuia dentro per Boatina, attenzione, Boatina è traversone in mezzo e c'è la rete! La Juventus è in vantaggio! Alla numero 6 della materina, il traversone a cercare proprio la Girelli! Il raddoppio della Juventus Women! Isca l'arbitro, Cernuia! 3-0! Oh! Il raddoppio della Juventus Women! Ho lo pubblicato, ho lo pubblicato! Letta! Hoppa! Letta! attenzione a Barbara Bonansea va la Bonansea punta la porta buon dribbling Bonansea la Juventus suive ed è in vantaggio Girelli dentro a cercare Barbara Bonansea Bonansea la Juventus è in vantaggio due contro due Bonansea punta la porta punta la Fusetti Bonansea rientra sul destino Bonansea palla numero 18 Liona dentro il pallone attenzione a cercare la Braconzi la Juventus suive ed è in vantaggio Caruso il pallone dentro a cercare la Cantore Cantore Alucco l'ultima opportunità della prima frazione per la Juventus palla britannica dentro il pallone cercare Bonansea Bonansea il pareggio della Juventus Barbara Bonansea ancora lei a segno contro il Milan Durinen pronto al traversone lo trova in messa a cercare la conclusione della rete di Ariadne Caruso la Juventus women è in vantaggio Samuotin alza la testa il contropross verso la gire e attenzione Pedersen la Juventus suive ed è in vantaggio Sofì Pedersen sotto misura mette dentro il pallone dell'1 a 0 Alucco punta la difesa schierata Alucco palla sul destro Alucco il tiro di via tradizione Calli Calli la Juventus suive ed è in vantaggio il call di Aurora Calli al minuto numero 11 Cirelli Cirelli dentro a cercare Niole Alucco si inserisce Alucco Alucco va ancora lei attenzione Alucco Iaia Calli Cirelli con il destro la rete di Cristiana Cirelli Bonansia arriva più veloci di tutte Barabara Bonansia attenzione Barabara Bonansia Bonansia ancora dentro e la rete siglata da Cristiana Cirelli Girona dentro il pallone a cercare la Cirelli punta la porta adenzione va la Cirelli 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 la parata poi Cirelli ancora Cirelli palla che rimane lì Girona la Juventus women è in vantaggio il traversone sul pallungo a cercare Cristiana Cirelli Cirelli di testa e la rete il gol della Juventus women colpo di testa la spizzata attenzione va la Cirelli Cirelli 2 a 0 attenzione la Luco va a puntare la porta la Luco di fronte portiere a Luco a Luco a Luco a Luco che noia il cross teso sul palo Luco colpo di testa attenzione Ekrot la Juventus women in vantaggio ancora Petrone la Ekrot a Luco per Cernoia palla su sinistro Cernoia la conclusione è un gol meraviglioso di Valentina Cernoia il pallone è dentro Girelli e stavolta il gol il tocco di Caruso la palla la palla resta lì è gol è gol è gol è gol è gol e lo fa Cristiana Girelli non sbaglia dal dischetto a Luco il tacco buono per Rebo che la mette in mezzo per Stascova e c'è il gol della Juve 2 a 1 al 79esimo minuto il pallone dentro di Cernoia la palla su il secondo palo per Girelli il colpo di testa è gol Cristiana Girelli ancora lei ancora di testa al 18esimo minuto il pallone dentro il colpo di testa di Sembrant è di nuovo il vantaggio alla Juve dentro per Maria Alves sotto a Maria Alves il destro di Maria Alves c'è la sul Mancino c'è Moial la porta sul destro prova a entrare in area il tocco dentro con Rosucci la palla resta lì ancora partire a Rosucci e poi la palla è gol la Juve in vantaggio può pensare di mettere in mezzo lo fa adesso il traversone a cercare Girelli il colpo di testa di Cristiana Girelli Girelli il fallegginare a prova a girarsi Girelli con un gran numero Cristiana Girelli dentro il Mancino di Cernoia la traversa e la rete tocco per Gallia spazio ancora dentro per Cernoia che lascia scorrere per Girelli Cristiana Girelli 1-0 per la Juve al dodicesimo minuto Rivarci Caruso che tocca per la compagna Stascova tu per tu con Ortru Stascova Kirinen tenivo il pallone per Caruso che ha spazio sul fondo il traversone in mezzo di Caruso il colpo di testa di Cristiana Girelli ed eccola qui Marialves che taglia in mezzo occhio a Stascova e l'etopo dentro per Marialves 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 la mette sul secondo palo dove c'è Girelli Girelli il tiro di Girelli arriva al 3-0 della Juve la doppietta di Cristiana Girelli il lancio di Sembra però è ottimo per Cernoia che vale il seguimento di questo pallone che Roducci in mezzo il pallone dentro Roducci 1-0 Juve a trentesimo minuto occhio a Stascova 1 contro 1 di Stascova Stascova in aria in dentro di Stascova per il 2-1 della Juve ecco per Marialves che prova il traversone in mezzo diventa un tiro e diventa un gol al trentesimo minuto Caruso sul secondo palo Girelli di testa e il pallone in rete Cristiana Girelli va via Greggi che ne rimane aggrappata Roducci ci prova con il destro dalla distanza è un gol pazzesco quello di Martina Roducci sbaglia di Griscio con Roducci anticipato da Greggi ma c'è ancora Caruso che con il mancino cerca la porta c'è Atar c'è Atar lascia entrare il pallone al limite c'è Pedessen il cross non riesce ad arrivarci Sembran di testa poi in qualche modo Ardoche perché la palla resta di Cristiana Girelli il cross centrale della Juventus libera Bergamo poi al volo Martina Roducci la direzione poi ancora la conclusione vincente cerca la schiacciata di Rally non è finita Rosucci con il destro la Juventus è la doppia arriva come un cane armato la Pedersen a porta è guarnita è uscita nel portiere porta a tre le marcature odierne della Juventus Women libera a destra Guia gridi di Barbara cross bellissimo al centro per il poker bianco nero di Martina Roducci Guia va da Roducci che fa proseguire Barbara in area di rigore con Arsia il portiere B&B è tornata Barbara Bonansea 30 e 44 poi la lunga ancora per Cernoia c'è già Girelli dentro l'area di rigore con Bonansea fallata per Barbara che spizza di testa autogol da parte dell'orobica di Bergamo Ross alto per lo stacco di Pirelli via il primo dribbling via il secondo no all'ultimo poi alla conclusione del limite è il grandissimo gol il grandissimo gol della Juventus col mancino di Arianna Caruso ancora per Ragazzi si gira a destra Goglia dentro per sta scova si gira sta scova al destro la parata che non tiene il pallone del portiere con il gol della Juventus regolare con un colpo di petto da parte di Bellucci per Giordano che la mette in mezzo la spaccata poi sembra non riesce a trasformare in gol ancora nel portavuota gol il quarto gol delle Juventus women la doppietta personale di Asia Bragonzi è finito l'attacco della Juve con Salvai carica il mancino il gol di Cecilia Salvai bello il servizio di Nassi per Maria Alves c'è il portiere dribbling Maria Alves 6 a 0 Juventus Giordano guarda la porta tira paro gol bragonzi bragonzi tira gol da parte di Asia bragonzi le traversone dentro attraversa l'aria arriva Zammit ma soprattutto Cernoia con il mancino Cernoia e questa volta non perdona ancora per Galli la mette giù con il mancino per lo scatto di Pedersen ancora Galli il destro di Yaya Galli grazie